Torna finalmente a splendere il sole dopo giorni di pioggia, di freddo e di temperature sottomedia con la neve che ha fatto la sua comparsa sui nostri monti fin dagli 800 metri sui nebri e dai 900 millimetri sulle cime dei monti pedolitani. Ma nel corso di questo fine settimana un nuovo anticiclone verrà a farci visita e a ripristinare condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio stabilizzando le masse d'aria sul bacino centrale del Mediterraneo. Si tratta di un anticiclone interciclonico, cioè un anticiclone che si trova fra due circolazioni depressionarie una molto fredda sulla Russia e un'altra sull'Atlantico. Questa struttura di alta pressione nel corso delle giornate di sabato e di domenica porterà condizioni di tempo sostanzialmente buono, prevalentemente soleggiato con cieli parzialmente nuvolosi o poco nuvolosi. Qualche nuoco a nuvolamento durante la sera al primo mattino si potrà vedere solo in prossimità dei rilievi. Le temperature massime subiranno un graduale aumento di qualche grado con punte di 14-15, localmente anche 16 gradi, mentre le minime rimarranno pressoché stazionarie con valori attorno ai 9-10 gradi sul livello del mare, venti in prevalenza deboli settentronali e mari poco mossi.